Nelle regioni bianche la variante Omicron sta prendendo il sopravvento, lo dicono i dati della protezione civile e la conferma arriva anche dall'analisi del laboratorio di microbiologia dell'ospedale di Campobasso. Il Molise quindi non fa eccezione, anzi nei prossimi giorni si teme una nuova impennata di casi, soprattutto a Campobasso e Isernia, considerando gli assembramenti registrati nelle feste natalizie. Su 142 nuove diagnosi del 22 dicembre, 34 sono con variante Omicron pari al 24 per cento, sottolinea il dottore Massimiliano Scutella, quindi si conferma la previsione che la variante Omicron stia soppiantando la delta. A livello nazionale il fisico dell'Università di Trento e coordinatore dell'osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con Agenas Roberto Battiston ha chiarito che nel giorno di Natale i casi di Omicron in Italia erano pari al 45 per cento del totale dei circa 54.762 casi di covid-19 registrati. Tornando all'aumento dei contagi, nella città Pentra si parla di molti focolai esplosi dopo l'aperitivo del 24 dicembre. Nel centro storico alcune migliaia di persone per tutta la giornata hanno consumato drink e brindato, non solo, anche in altri locali della città, violando le normative vigenti. È accaduto anche a Benafro e nel capoluogo e a dirlo sono i risultati dei tamponi rapidi, test per cui i cittadini hanno preso d'assalto le farmacie. A Campobasso tanti gli antigenici positivi per ragazzi tra i 18 e i 25 anni.